Musica Questa è una stampa rarissima della città di Corezia Sì, i famosi orti di cui mi diceva da prima Eccoci qua le cipollone di Sant'Ignazzo dell'Oriol E il castello E il castello che abbiamo fotografato prima E tutto qui dentro questa stampa rarissima di Corezia Ma in vendita? Sì, ma noi abbiamo fatto anche delle ristampe Molto belle Fatte ad arte Ad arte, certo Costano pochissimo, 60 euro l'uno 60 euro ci porta via una pianta di Corezia E poi abbiamo naturalmente le carte della Dalmazia E del centro Europa Perché qui fino al 18 era Austria Eravamo sotto l'impero Sotto all'impero, qui finiva l'impero Qui finisce l'impero Più o meno Più o meno Qualcosa di interessante Mi è uscita così Qui finisce l'impero Di Grazie a tutti.